Uomini e donne, la prima settimana di programmazione non sta deludendo il pubblico di Maria De Filippi né, stando alle anticipazioni, lo deluderà. Nei giorni scorsi sono stati presentati i nuovi tornisti di questa edizione del programma Cult di Casa Mediaset, dunque Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina Dejannon. È stato anche dato spazio al Trono Over, però. C'è stato il ritorno di Ida Platano, che ha messo un punto alla storia mai iniziata con Mario Cusitore e la puntata di giovedì, 26 settembre, riprenderà da dove si è interrotta, quindi con Barbara De Santi al centro dello studio. La dama avrà un confronto con Matteo e Giuri. Entrambi avrebbero chiesto il suo numero senza approfondire la conoscenza. In particolare, la dama sembrerà delusa da Giuri, che confesserà il desiderio di voler conoscere altre dame del programma. Ma ecco il colpo di scena. Maria De Filippi annuncia un nuovo cavaliere per Barbara e, quando scende le scale, viene accolto da un boato. Non è un personaggio nuovo, ma un noto ex corteggiatore di Gemma Galgani. Raffaele è tornato in studio. Ricordate? Era il 2017. I due si stavano conoscendo da alcune settimane. E la dama, nonostante provasse ancora qualcosa per Giorgio Manetti, sembrava molto interessata al cavaliere. Poi, l'annuncio di lei voler chiudere la loro frequentazione perché Raffaele aveva avuto diversi atteggiamenti che non le erano piaciuti. Oggi, anno 2024, riecco Raffaele a uomini e donne, ma per Barbara De Santi, come si capisce dal video social. Ma, a quanto pare, Gemma non resterà indifferente al ritorno del suo ex corteggiatore in studio. E infatti, ammetterà di aver provato una sorta di brivido nel rivederlo. Dopo aver già chiuso con Valerio, riprenderanno a frequentarsi?